Noi quando parliamo di gestione attiva ricordiamo sempre tre o quattro punti veramente cruciali. Il primo è che noi facciamo una gestione attiva da un punto di vista strategico. Quando pensate a Tiroprice e pensate alla gestione attiva dovete pensare sempre a un ruolo strategico degli investimenti. Quando Tiroprice decise di inserire una società, un'idea di investimento all'interno di un fondo lo fa perché ha una visione a cinque anni o a tre anni o addirittura a volte anche a dieci anni. Questo è un punto fondamentale. Se io guardo la rivoluzione tecnologica, le più grandi società del mondo in capitalizzazione come Amazon, io probabilmente dieci anni fa dovevo avere una visione strategica e non fare trading o visione tattica. Dico questo perché Tiroprice oggi è tra i primi cinque azionisti attivi di player come Amazon per darvi un esempio. Il secondo punto è la size. Tiroprice ha 1 trillion dollar di asset under management e ovviamente se tu hai 1 trillion riesci ad avere un'economia di scala, è una capacità informativa che il piccolo riesce. Terzo punto la piattaforma di ricerca. Tiroprice ha 162 analisti che si occupano esclusivamente dell'analisi dei titoli che hanno in portafogli e dei potenziali e questo ci dà un vantaggio competitivo nella visione di lungo periodo.